Il Pentagono ha diffuso alcune immagini dell'operazione durante la quale domenica scorsa l'ex leader dello Stato Islamico Abu Bakr al-Baghdadi è stato ucciso. Una prima porzione del video mostra soldati delle forze speciali avvicinarsi al compound mentre nella sequenza successiva è ripreso il bombardamento aereo che ha distrutto l'edificio. Il terrorista nel filmato non è visibile ma il generale McKenzie ha voluto rincarare la dose circa il suo comportamento che a quanto pare non sarebbe stato esattamente eroico. È strisciato in un tunnel portandosi dietro due bambini e si è fatto saltare in aria mentre i suoi uomini ancora combattevano per lui. Potete capire quindi che tipo di persona fosse. Secondo le rivelazioni del New York Times, il Baghdadi avrebbe pagato gli esponenti di un gruppo rivale affiliato ad Al-Qaeda per garantirgli protezione nella zona di Idlib. Ma a tradirlo, stando a quanto rivelato dal Pentagono, sarebbe stato uno dei suoi fedelissimi.